Grande spavento sabato sera nel rione San Pietro di Ariano. Una bambina, mentre era intenta a giocare nel piccolo parco giochi, è caduta, spinta accidentalmente ed abbattuto la testa sulle pietre della pavimentazione in tuffi accanto alle altalene. La piccola, di solo un anno e mezzo, ha perso del sangue ed è stata subito portata al pronto soccorso del frangipane, dove è stata tenuta sotto osservazione e poi dimessa. Per fortuna niente di grave, solo tanta paura. Da tempo però i residenti lamentano il fatto che il piccolo parco giochi non sia dotato del necessario tappetino antitrauma per ammortizzare le cadute. Invece accanto alla terra abbattuta c'è una pericolosa pavimentazione in tuffi sporgente in molti punti. Inoltre la presenza dei meravigliosi pini mediterranei, se da un lato caratterizza ed ossigena il quartiere, dall'altro lato crea la problematica delle radici in superficie con il danneggiamento di aiuole, marciapiedi ed asfalto. Le pietre là che sono pericolose sono pure rialzate e non va bene per i bambini perché ci cadono sopra. E' tutto rotto, non ha mai provveduto di nessuna maniera. Vabbè qui ci sono le radici degli alberi che sollevano. Lo so, sì ma ci volessi pure ogni tanto di ripararli. Quindi lei che cosa suggerisce? Un po' di manutenzione? Un po' di manutenzione, non è stata abbandonata. E' di pulizia? Il tappetino ormai è scarso, cioè non c'è mai stato. Al taleno ormai pure noi facciamo qualche manutenzione, non so, le catene sopra. Ci sta lo scivolo che dondola tutto ed è pure un pochino, sembra pericolante. Quindi un po' di manutenzione. Lei diceva che non possono girare in bici perché ci sono le radici degli alberi. Certo, sì. Non si può giocare con le bici, bambini, perché si cade. Gli anziani che non possono passeggiare? Il tappetino è dissestato, quindi ci sono varie pietre rialzate, delle buche. Per i bambini che si sa che comunque corrono ed è difficile tenerli fermi può essere pericoloso. Sarebbe buono un tappetino antischocco? Sicuramente, un tappetino, anche un po' di erba sintetica. Però creare comunque un materiale più morbido nel caso poi si dovessero verificare delle cadute accidentali per i bambini. Certo, altalena. Perché molte volte è insufficiente, specialmente di pomeriggio, che si raccolgono tanti bambini che vengono pure da altre zone di Ariano. Cardito. È un punto di riferimento. È un punto di riferimento per tutti. E il tappetino antischocco sarebbe pure importante. Eh sì, poi specialmente perché ci stanno dei tuffi che comunque non sono livellati bene, fuoriescono e i bimbi facilmente possono ingiampare. Stamattina ho saputo di questa notizia che una bimba ieri è caduta e l'hanno dovuto portare in ospedale. Non so con quale conseguenza. Spero che non si sia fatta niente. Spero che non si sia fatta niente.